Ciao a tutti e benvenuti nel canale, in questo video vi mostrerò dove trovare la runa nel livello Canyon Crackty di Minecraft Dungeons con la premessa come sempre che dovete completare il gioco almeno una volta una volta che siete arrivati qui praticamente ed avete sconfitto i nemici perché il cancello inizialmente è chiuso andate qui dove c'è l'acqua e troverete una piattaforma segreta, quindi attivatela e entrate qui dentro come potete vedere si è sbloccato l'ingresso ad un dungeon dove al suo interno troverete la runa quindi come sempre interagite con la piattaforma, attendete per raccogliere la runa che poi potrete posizionare come sempre all'accampamento nella struttura alla quale potete accedere dopo che avete abbassato il ponte elevatoio, quindi completate il gioco, raggiungete questa struttura abbassando poi il ponte elevatoio e da lì poi posizionate la runa naturalmente io vi mostro in ogni video dove dovete posizionare la runa ma potete farlo anche alla fine una volta che avete ottenuto tutte le rune andate qui e le posizionate tutte per accedere poi ad una zona dove potete farmare a volontà quindi per adesso siamo a quota 4 rune ok ok